Ci siamo ragazzi, siamo pronti a fare le ranked in questa nuova stagione In questo video ragazzi vado a mostrare tutti quanti i posti segreti della nuova Battle Royale Remix Che sarà disponibile fino al 30 novembre Ma che molti di voi non conoscono come l'ho conosciuta io tantissimi anni fa Qui ci sono anche dei bug e segreti che sono arrivati con questa nuova versione che voglio farvi conoscere Tutto questo ragazzi perché questo qui è il bellissimo ombrello Remix che si può sbloccare Ma ci sarà un nuovo ombrello Remix, versione migliorata Che sarà l'ombrellino delle ranked, come ogni stagione ragazzi, per esempio la scorsa Ci stava un ombrellino speciale che si poteva sbloccare facendo la win E un altro ombrello che invece si può sbloccare con dei listi di extra che rappresentano i rank sbloccati nella Battle Royale E rientro, quindi scegliete voi se far rientro Battle Royale, quello non cambia Per vincere questo ombrellino speciale cosa dovete fare? Giocare questi tornei che come vedete saranno già disponibili questa settimana E saranno disponibili la settimana dopo e la settimana dopo Quindi avrete occasioni sempre per poterlo portare a casa Sia in singolo che in coppie, sia build che zero build Se giocate in coppie, tu e il tuo bro dovete essere allo stesso rank Quindi in questo caso dovrei essere anch'io con il mio bro, bronze, argento e oro Oppure se siamo tipo più avanti dovremmo essere entrambi sopra l'elite Capito? Vi serve di fare 50 punti che sono una cavolata Perché basta fare una partita, arrivare fino alla top 10, che ne so E avete fatto tutte le posizionamenti Fate qualche kill, vi portate anche più avanti È semplicissimo E avete partite infinite Quindi anche se siete dei scarsoni L'ho portata a casa Ma adesso andiamo in battle royale Che vi faccio vedere tutti quanti i posti segreti E che vi consiglio per farmare i punti delle ranked Allora, come prima cosa c'è da dire questo I punti delle ranked come vanno sistemati? Se fate delle buone top vi vengono dati dei punti Se fate delle kill vi vengono dati dei punti Ma cosa vi consiglio di fare? Innanzitutto se giocate in ranked con un vostro duo Perché la modalità coppia è quella più consigliata Perché si riesce a fare un bel ratio di kill slash sopravvivere Vi consiglio di pushare, combattere Fregatevene assolutamente Finché non arrivate a diamante 3 Perché per il resto, raga, è semplicissimo salire fino a diamante È dopo che diventa un po' complicato Ovvio che atterrare all'agenzia e i nuovi spot dei boss Vi porterà armi migliori, aprire le casse, eccetera, eccetera Quello lo sappiamo già Però ci sono alcuni altri nascondigli O ci sono delle casse già belle pronte Che possono darvi delle armi Per poter combattere Queste armi vi saranno utili Quando arriverete in Elite e in poi Perché ragazzi Il trucco che io ho per arrivare Unreal Come vedete ho l'ombrellino Unreal È quello di dopo l'Elite Camperarsi Rimanere fino alla top 10 Cosa che ragazzi è semplice Perché se entrate nelle lobby Della gente che si sfracassa di volte Si ammazzano tutti quanti Prima che si chiude la prima safe Perché atterrano male O non stanno l'endare Poi trovatevi un bello spot vostro Che sapete che anche se arriva qualcuno Sapete già dove stanno le casse E siete pronti Io per esempio adesso vi vado a presentare Uno dei posti che avevo imparato Ai tempi dove atterrare Che è la torre radio Qui vicino a Scogliere Scoscese Andando qua sotto Come sentite ci sta un rumore strano Oltre tutte le casse Che sono un casino Ci sta già una cassa Garantita Degli spettri Con armi blu C4 Oppure Medikit E altri gadget Che ovviamente verranno aggiunti Nelle prossime versioni Perché ogni settimana cambia il loot Allora ricordatevi Che qui sotto ragazzi Ci sta un bel camion di slurp Io questa cosa lo so a memoria Perché ho passato tutto il 2020 A ratterrare qui Per fullarmi Con Il cento di scudo Che ti dava subito Per poi andare a combattere Soprattutto perché Il cento di scudo È molto utile In una stagione Che nel loot pool Ha una pochissima percentuale Di darti gli scudini Non so voi ragazzi Ma ogni partita che faccio Non ho mai scudo È impossibile da trovare Ma intanto Mentre siamo qui Vi vado a ricordare Di iscrivervi al canale E lasciare like Perché siamo per arrivare ai 50.000 Vi ringrazio davvero Per tutto quanto il supporto E voglio aiutare Più gente possibile A imparare Le cose migliori Di questo gioco Sempre per migliorarsi appunto Ma adesso Perché non andiamo a cercarci Dei bei posti Dove camperare Beh non c'è bisogno Che vi dico Che a mettervi Nei c'è spoglio Nel fieno Potete rimanere nascosti Ma vado a dirvi D'alcuni spot Che o sfruttate voi Oppure tenete d'occhio Perché potrebbero essere Sfruttati da altri Quindi potrebbero essere Delle free kill Per gente che si campera Uno di questi È proprio qui dentro Qui ragazzi Entrate qua In questa fattoria Vi mettete qui E siete a posto C'è una finestra Dove potete scappare La gente potrebbe Passare da qui sotto Per pigliare loot O altre cose E voi siete qui Safe Dentro la fattoria Il posto è questo qui Nella fattoria Che dà sul fiume Qui ragazzi Ci sta un altro posto Nascosto Che io Facevo fatica a ricordare Eppure l'ho giocata Molto questa maffa Ma qui sotto ragazzi Ci sta un passaggio segreto Che vi porta Sempre in uno di questi Container qui Con una cassa garantita E già qui Un altro posto Con mitrailletta blu Vabbè io sono sfigato Spero che voi Viate più fortuna Ma poi soprattutto Ci stanno altri posti In cui nascondersi Tipo questo qui Andando qui sotto Voilà Siete nascostissimi E nessuno può trovarvi Ovviamente Tranne la safe Quella può trovarvi Un altro spot Si trova Qui Dove Sentite che ci sono Degli NPC arrabbiati Ma non li vediamo Bene Chi si ricorda Ai tempi Della prima stagione Marvel Cosa ci stava qui Qua sotto ragazzi Ci stava Un passaggio segreto Che si può accedere Da questo Butter Che vi porta Nel magazzino Sotto il campo Da calcio Con vabbè Gli NPC Che si possono Benissimo far fuori In una maniera Semplicissima E Successo niente A posto Con tutta quanta Questa zona Piena di casse Eccetera Bla 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 Cassa garantita Che possiamo Appigliare qui Con l'NPC Quindi voi scendete qua Per chi non si ricorda Ai tempi Come funzionava Dovete raccogliere L'NPC Prenderlo in braccio E portarlo davanti Alle casse Per scannerizzare Oppure se avete Preso il travestimento Ma quello Penso sia proprio complicato Scansionato E voilà Scar Appena iniziata La partita Easy Ma se voi Non vi interessa Il loot Ma vi interessa Camperare Per fare punti Beh scendete qua Voilà Chi viene a cercarvi qui E se qualcuno Vi viene a cercare Soprattutto Deve passare da qui Pam Fatto Adesso ragazzi Voglio andare a vi mostrare Uno dei posti Più storici Del gioco Di Fortnite Del capitolo 2 Soprattutto Che Che se non lo conoscete Raga O siete nuovi Oppure Chi c'era Si è già perso Dei pezzi di storia Adesso capirete Questo posto Innanzitutto Uno dei posti migliori Dove atterrare Perché è pieno Di slurp Quel camion lì Ti fulla Questi qua 50 e 50 Questi 10 10 10 10 10 Tutti quanti da spaccare Basta che fate un cono E siete pronti E qui raga Che si sono Creati le prime strategie Per fullarsi subito Con i barili Voi Non sapete Cosa c'era ai tempi Ma ai tempi Ci stava anche una cosa migliore Dei barili Cioè proprio L'acqua Lo scarico Dello slurp Che finisce nel fiume E qui ragazzi Come state vedendo Mi sto fullando La vita E anche lo scudo Ma la cosa migliore Da fare in realtà Era proprio Mettersi qui Nessuno può sapere Che voi siete qui dentro Nessuno può sapere Che siete qui dentro Ma ovviamente Dovete Nascondervi bene Oppure mettervi Una skin Tutta azzurra Tipo la supereroina Tutta azzurra Ho una skin slurp Ho una skin di ghiaccio E vi mimetizzate Perfettamente Lasciate Magari Del loot Lì davanti Tirate dei medikit Bende Cose E poi Prossimo video Ne arrivo Adesso ragazzi Vi mostro Un punto Speciale Dove Potete fare Un glitch Per potervi Portare a casa Delle belle armi Abbiamo parlato Prima del fatto Che ci stanno I boss In giro Il loro cavo Eccetera Vabbè Chi se ne frega Però ci sta Un cavo Senza boss E noi possiamo Entrarci dentro Senza fare fuori Il boss Che non esiste ancora Stiamo parlando Di gatto grill Infatti ragazzi Per chi si ricorda Ci stava il nostro Fantastico gattino Quel pompa mitico Ma adesso Non c'è ancora Arriverà nei prossimi Update Ma voi potete entrare In anteprima nel cavo Facendo un glitch Vi dico già una cosa Vi servirà un amico Perché dovete farlo In coppia Almeno Quello che volete fare Ragazzi È procurarvi Una whiplash In questo caso Io sono in singolo Mi sono fatto aiutare Dal nostro collega Che sta lì Fatta la whiplash Quindi dovete togliere La skin della macchina Al vostro duo Al vostro teammate Entrate in macchina E sprintate subito Per entrare Dentro il cavo Che come vedete Sta qui E non si può accedere Perché serve la card Dopo aver parcheggiato La macchina Andate qui E sprintate dentro E voilà Siamo dentro Il cavo E possiamo accedere A queste casse Con un loot Della madonna E un airdrop Garantito Con un vampa viola E una cassa Mitica Con una pistoletta E dei cartoni Va bene Poi per uscire Semplicemente Ritornate in macchina E voilà Siete fuori E vi siete portati Il fantastico loot Che era dentro il cavo Detto questo ragazzi Questi sono i segreti maggiori Della stagione Remix Che è tornata Se volete farmare altri punti Vi consiglio di seguire Gli altri spot Che poi porterò Io vado a ricordarvi ragazzi Di usare Il codice creatore Dave14 Per comprare Tutte le prossime skin Soprattutto quelle delle auto Che come vedete Possono salvarvi la partita Ringraziamo il nostro collega E ci vediamo Al prossimo video Ciao